Ancora insulti a Giorgia Meloni, dopo il professore senese un nuovo caso denunciato da Fratelli d'Italia. Nel mirino è finito un post scritto da Luigi Anzalone, ex consigliere regionale e assessore della Giunta Bassolino, oltre che presidente della provincia di Avellino. Che Meloni sia molto peggio di quello che il prof Gozzini le ha detto è oggettivo, ma non doveva dirlo, basta schifarla, la frase incriminata. Duro il commento di Giovanni D'Ercole che parla di dichiarazioni indecenti e di disgustoso rigurgito di violenza, sessismo ipocrita e odio politico. D'Ercole ha chiesto al centro-sinistra Erpino di prendere le distanze dalle parole del professore. E una netta condanna arriva anche dal senatore Antonio Iannone, che è anche commissario provinciale di Fratelli d'Italia in provincia di Avellino. Noi stiamo assistendo veramente ad una sagra di chi fa l'eroe della democrazia e poi cade in questa pratica vergognosa dell'insulto che veramente lascia essere fatti. Devo dire quello che ho letto oggi dall'ex presidente della provincia di Avellino, ex assessore regionale di Bassolino è veramente qualcosa di politicamente rivoltante perché aggiunge violenza alla violenza. Di affermazioni inaccettabili e scandalose parla invece il deputato Edmondo Cirielli che ha investito della vicenda il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti e il ministro dei beni culturali Dario Franceschini